Vi racconto brevemente quella che è la filosofia che accompagna l'alberghiero di Silvi. Dietro questa filosofia c'è uno staff giovane, uno staff molto dinamico che ha tanta voglia e ha individuato all'interno del settore della ristorazione una nuova figura con una doppia qualifica che identifica sia l'operatore di cucina che l'operatore di sala. Questo al fine di garantire ai nostri allievi un certo futuro lavorativo perché con i ritmi moderni e le frenesie moderne viene richiesto sempre una maggiore completezza professionale ai nuovi operatori della ristorazione e questo fa sì che integrandosi con la didattica ordinaria riusciamo a garantire alle future generazioni delle ottime prospettive di lavoro. Abbiamo degli ottimi laboratori di nuovissima costruzione completamente funzionanti e studiati nell'ottica di dimostrare a tutti i nostri allunni quello che è il reale lavoro poi all'interno di un'azienda ristorativa. Quindi ci sono tutti i requisiti di legge e tutte le necessità per un lavoro in sicurezza. Ciao a tutti, sono Silvia, attualmente frequento il 4M dell'Istituto Alberghiero Zori. Quest'oggi sono qui per presentarvi i motivi per cui ho scelto questa scuola. Il primo sicuramente è la passione e l'entusiasmo che nel nostro campo non possono mancare. Il secondo è sicuramente il senso di appartenenza ad uno staff o nel nostro caso ad una brigata. Ovviamente il campo economico è essenziale per via delle prospettive lavorative sicure. Il mio sogno è quello di diventare il primo metro del ristorante italiano di Bastianici. Sono Alessia, frequento il quinto anno della scuola alberghiero di Silvi e ho deciso di intraprendere questo percorso per coltivare la mia passione e spero un domani di farne un lavoro. Questa scuola ci insegna a relazionarci con il mondo del lavoro, ci insegna anche ad essere indipendenti. Sono molto contenta di frequentare questa scuola.